Altro sangue sulle strade, morto 39enne in sella alla sua moto. Caso Moneti, anziana, mette a disposizione la casa per la famiglia. Parco San Bartolo parte la presidenza di Silvano Leva. Spariscono le banche da Monbaroccio e Sant'Angelo in Lizzola, appello dei sindaci. Studenti pesaresi donano quintali di cibo al Banco Alimentare. Benvenuti al telegiornale di oggi, venerdì 31 marzo. Questa edizione viene aperta con la cronaca, infatti si chiude una settimana terribile dal punto di vista degli incidenti stradali sul nostro territorio. Ieri sera c'è stato un secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni. È avvenuto in via Gagarin dove anche questa mattina si è registrato un tamponamento. Settimana terribile per gli incidenti stradali. Dopo la morte del 42enne Cagliese Matteo Fagiani, deceduto in uno schianti in autostrada, al volante della sua Volkswagen Polo, fra i caselli di Pesaro e Fano, nella notte fra il 28 e il 29 marzo, si aggiunge altro sangue sulle strade. Questa volta alla periferia della città di Pesaro, dove ieri, attorno alle 21, ha perso la vita il geometra 39enne Alberto Gregori, papà di una bambina. Ha perso la vita qui in via Gagarin dove ci troviamo in questo istante, nel mattino seguente a questo sinistro fatale. Gregori era originario di Pesaro, ma residente a Cattolica, città romagnola, verso la quale stava rientrando in sella la sua Harley Davidson, percorrendo via Gagarin in direzione Torraccia. La moto di Gregori si è schiantata contro l'albero che vedete qui al mio fianco, in prossimità di questa leggera curva vicino alla concessionaria Diba. Albero che porta tuttora i segni dello schianto, ha perso della corteccia, ci sono tracce di sangue, così come ci sono tracce di sangue sull'asfalto e anche vicino all'albero si vedono ancora un manubrio, una manopola della moto Harley Davidson e la stessa visiera del casco rimasta qui a bordo della carreggiata. Una curva davvero maledetta perché proprio questa mattina, attorno alle 11.15, proprio mentre vi stavamo documentando il luogo di questo incidente mortale, si è consumato un altro incidente, molto meno grave, sulla stessa curva, ma dal lato opposto della carreggiata, come vedete alle mie spalle, è ancora in corso la ricostruzione della dinamica del sinistro, che ha visto un furgone centrare in pieno una macchina detta ai lavori di Aspes, che era proprio in ricognizione su questa strada per monitorare anche l'albero che è stato centrato la scorsa notte dal malcapitato motociclista, così come la stabilità di varie altre piante presenti su questo tratto, in prossimità del fiume Foglia. Un incidente questo senza conseguenze, frutto di una distrazione del conducente alla guida del furgone, che ha centrato in pieno la parte posteriore della Fiat Panda di Aspes. E come detto, una settimana davvero maledetta per gli incidenti stradali, perché si aggiungono a questi anche diversi investimenti di pedoni, l'ultimo proprio ieri in prossimità di Largo Tremartiri, quando una donna di 65 anni è scesa dalla propria bicicletta per attraversare la strada sulle strisce pedonali del ponte Brigata Ebraica, ma è stata travolta da un'auto che non ha fatto in tempo a frenare. È intervenuta l'eleambulanza che ha predisposto il trasporto all'ospedale Torrette in codice rosso. E continuiamo con la cronaca. Furto nella notte al noto locale pesarese Dama Bianca, in strada sotto la rocchetta a fianco della chiesa del porto. I gnoti si sono introdotti nella proprietà privata, rubando per lo più attrezzature interne a bar e cucina del ristorante. Ancora da valutare eventuali ammanchi di contanti, indaga la polizia esaminando anche le telecamere presenti nei pressi del locale. Ed ora ci spostiamo a Fanno, alle prime luci dell'alba di ieri. Infatti è stato effettuato un arresto per ricettazione, un 37enne pregiudicato di origine rumene, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura, è stato identificato all'interno di un residence sul lungomare di Fano. La polizia ha preso in custodia l'uomo, che è stato recluso nel carcere di Villa Fastigi, dove dovrà scontare una pena di un anno e sette mesi. E torniamo ad occuparci di questo caso che abbiamo seguito anche noi di Rossini TV per diverse settimane. E' quello dello sgombero della famiglia Monetti dalla propria abitazione, che era previsto questa mattina. Si è invece trovato, per fortuna, un accordo condiviso fra le parti per un'ulteriore proroga, anche alla luce del fatto che la famiglia Monetti ha trovato una nuova sistemazione. Come state? Stiamo bene, ma siamo provati. Parole che esprimono tutta la stanchezza psicofisica che Giuseppe Monetti e la sua famiglia stanno provando dopo questi anni e ultimi mesi in cui la sorte sembra avergli voltato le spalle. C'è però una luce in fondo al tunnel. Ci sono infatti importanti sviluppi sulla nuova abitazione che accoglierà i Monetti, una conseguenza inevitabile dopo la confisca della loro casa in via Persoria e dopo l'ennesima scadenza per lo sgombero imposto dal giudice, fissato questa volta per l'11 aprile. Dopo mesi di ricerche, la famiglia del giovane Alessandro, 26enne rimasto in sedia a rotelle dopo un incidente in scooter, ha firmato un contratto d'affitto dal 1 giugno in un appartamento a Loreto di Pesaro. Padre, madre e i due figli hanno iniziato intanto a inscatolare alcuni beni personali in vista del trasferimento nella nuova casa, che però non sarà agibile da subito vista la presenza dell'attuale residente e la mancanza di alcuni lavori indispensabili per far fronte alle difficoltà del giovane agricoltore invalido. Adesso speriamo di poter, in questi dieci giorni che ci rimangono, completare lo sbroglio di questo appartamento e chiudere finalmente questa parentesi che non è stata tutt'altro che piacevole. Abbiamo già smontato alcuni mobili, abbiamo impacchettato tutte le cose che non utilizzavamo nel quotidiano, però c'è ancora tanto da fare, anche perché la casa dove dovevamo andare non è libera. C'è questa signora dentro che ha più di 80 anni, che si è resa disponibile a darci la sua casa, però sta facendo fatica a trovare per lei una sistemazione. Adesso sembra che si sposti da dei parenti a Roma per un periodo e quindi a noi ci dà il modo di fare i lavori in maniera che riusciamo a entrare il prima possibile. La nuova giudicataria dell'immobile, che fino a poco tempo fa era di proprietà dei moneti, ha chiesto alla stessa famiglia un risarcimento di 7.500 euro per le spese legali ed affitto che lei stessa ha dovuto sostenere in un'altra abitazione nel frattempo che il suo nuovo appartamento venisse liberato. Ulteriori ingenti spese che però la famiglia Monetti non riesce a supportare. Ha chiesto per poterci fare stare un risarcimento, adesso noi non siamo in gradi di onorare una cosa del genere, non possiamo prendere un impegno così perché economicamente, purtroppo come abbiamo più volte ribadito, non abbiamo questa possibilità. Quindi noi adesso cercheremo di spostarci il prima possibile, liberargli di questo appartamento il prima possibile. L'affitto del nuovo appartamento sarà sostenuto interamente dal comune di Pesaro, che attraverso un contratto d'assistenza ha preso a carico le spese mensili di 800 euro per i primi sei mesi, eventualmente rinnovabili. Una situazione complessa che ha inevitabilmente rallentato il trattamento fisioterapico di Alessandro, che quotidianamente, da circa nove anni a questa parte, avviene in un centro privato di Macerata, per un costo mensile tra i 3 e i 4 mila euro. Una frenata c'è stata anche per la continuazione del sogno che Alessandro e papà Giuseppe coltivano insieme, quello di gestire e lavorare un appezzamento di terreno agricolo. Un'azienda padre-figlio che mesi fa era salita alla cronaca per una raccolta fondi, per poter dare in mano ad Alessandro un trattore che potesse guidare nonostante le difficoltà motorie. Una campagna solidale che sta proseguendo a passo spedito. Col trattore la raccolta fondi sta andando avanti, c'è l'associazione Vanda di Ferdinando che sta continuando a raccogliere per quello che può, ma soprattutto c'è l'intervento dell'onorevole Carloni, Mirko, che quindi ci sta interessando ad alti livelli, ci sta aiutando in tutti i modi. Siamo fiduciosi che per l'autunno abbiamo il trattore, insomma. Uno spiraglio di luce si intravede anche dalla riapertura del procedimento legato sull'incidente che nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2014 ha per sempre cambiato la vita di Alessandro e dei suoi cari. Il 18 maggio sarà ascoltato davanti al giudice il testimone che pare ricordarsi di alcuni dettagli sullo schianto provocato dal pirata della strada, fuggito senza prestare soccorso. Cerchiamo di non illudersi, insomma, però dai, sicuramente è una buona notizia che comunque hanno deciso di riaprirlo e che ci sono delle novità, quindi poi vediamo anche come si sviluppa il tutto. Un sorriso di speranza che rimane stampato sul volto del giovane anche quando lui stesso prova a immaginare come sarà Alessandro tra dieci anni. Ma Alessandro tra dieci anni, spero in piedi, che la terapia dà i suoi frutti. La vicenda del trattore tra dieci anni, molto prima, spero già di guidarlo, magari anche senza ausili, e la vicenda della casa, che potessimo avere un'abitazione nostra, magari di poterla comprare di proprietà e stare un attimino tranquilli. Ed ora ci occupiamo del Parco San Bartolo, che da questa settimana ha un nuovo presidente. Si tratta di Silvano Leva, che oggi è stato ospite nei nostri studi qui di Via degli Abetti e ci ha offerto una panoramica sugli obiettivi del suo mandato. Questa settimana è arrivata anche la ratifica del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ufficializza la nuova presidenza del Parco San Bartolo, quella di Silvano Leva, che abbiamo oggi ospite nei nostri studi. Silvano Leva, che succede a Stefano Mariani, per una carica, credo, da onori e oneri. Probabilmente più oneri che onori per adesso, per lo meno dall'inizio di questa storia. Stiamo cominciando a capire, sono chiaramente nel periodo dell'ascolto, perché dare già un programma di quello che può essere la storia futura e la discontinuità rispetto a quella precedente come è stata ufficializzata, vanno verificate, vanno ascoltate. Bisogna avere, prima di tutto, la capacità di ascoltare i residenti, le attività produttive, ma anche i frequentatori del parco per dare un equilibrio alle varie esigenze, alle varie problematiche. Siamo nel periodo di bilanci, quindi credo che dovrò incontrarmi anche con il direttore e con i dipendenti per capire qual sarà il bilancio del 2022, quali sono i risultati, ma soprattutto capire quali sono le esigenze anche finanziarie per sviluppare quei progetti e quelle cose che tutti quanti si stanno aspettando. Lei ha sempre vissuto gomito a gomito con la realtà del parco, sia con la sua azienda dell'Eiva che è davvero alle porte del San Bartolo, sia come residente. Sotto questo profilo quale vede l'urgenza più importante sulla quale intervenire? Allora, diciamo che mia nonna, che è nata nel 1899, abitava a Roncaglia, quindi siamo in pre-parco, e da quella volta nonni, genitori, noi, figli e nipoti abitiamo nel pre-parco con una vicinanza importante al parco, quindi ho vissuto anche il parco diciamo in questi secoli. Priorità per tutti i messaggi che mi sono arrivati, whatsapp, telefonate, richieste di incontri, sono tante, quindi dovremmo vedere anche i contributi che è possibile recepire per poter sviluppare i progetti, però come dico questa è una fase dell'ascolto, di cose ce ne sono tante, dalle più piccole, la via del mare, la strada dei vini, problematiche anche importanti per alcuni, mi hanno chiamato per i problemi degli insetti sulle palme, probabilmente ormai la campagna è anche abbastanza avanti quindi non si riuscirà a fare, siamo all'inizio della stagione estiva e quindi anche il problema del mare perché il parco parte da Baia Flaminia arriva a Gabice, Mare e Monte e quindi vedere anche per il mare cosa è possibile fare per l'accessibilità. Di cose ce ne sono un sacco, vediamo di dare, di fare una scaletta delle strategie, delle priorità e dalla prossima settimana cominciare a lavorare. Tra le novità più recenti c'è anche la nascita del brand Riviera San Bartolo, si diciamo è un valore aggiunto per ragionare di sistema? Sì, sicuramente sì, ho sentito anche con commercio, mi ha chiamato con fecercenti, voglio dire, di cose su gastronomia, sul vino, su tutti i temi che ognuno ha le sue priorità, i ristoratori hanno le loro priorità, la regione ha le sue priorità, la sede, si parlava di egemonia del parco del San Bartolo per quanto riguarda Fioranzuola, ma il titolo del giornale parlava che basta l'egemonia, ma non è un problema di penalizzare o spostare il tiro. Il parco è il parco, c'è Fiorenzuola che sicuramente è il fiore all'occhiera del parco, ma c'è anche Castel di Mezzo, c'è anche Santa Marina, quindi vediamo, ho detto che vorrei fare il precedente di tutti, spero di riuscire a fare il precedente di tutti, ascoltare tutte le esigenze e dando le priorità, però cercando di farmi valutare i suoi risultati e non i suoi discorsi. Intesa San Paolo, unico istituto di credito bancario presente nel Borgo Storico di Monbaroccio, in quello di Sant'Angelo in Lizzola, chiuderà entrambi i suoi sportelli per concentrare i servizi in poche filiali nelle zone a maggiore densità demografica. I sindaci Palmiro Ucchielli ed Emanuele Petrucci hanno allora deciso di inviare una lettera al governo per segnalare il progressivo depauperamento di servizi e anche ad Intesa San Paolo per invitarla a rivedere il proprio piano d'azione non dimenticandosi che anche queste piccole realtà hanno contribuito a far crescere i bilanci del gruppo bancario. Ieri sera a Fano si è tenuto un importante momento di incontro su infrastrutture e turismo alla presenza dell'assessore regionale Francesco Baldelli tanti temi toccati alla luce dell'entrata nel vivo della stagione primaverile vediamo Le infrastrutture come pilastro imprescindibile per lo sviluppo del territorio è questo il punto centrale dell'incontro tenutosi giovedì pomeriggio all'Agnuco Promo di Fano presente l'assessore regionale Francesco Baldelli a questo appuntamento fortemente evoluto da Federalberghi Confcommercio Marche Nord e Confturismo Pesaro Urbino i numeri illustrati da Baldelli a una platea composta da diversi operatori del turismo e non solo parlano di un cambio di passo fondato su un'idea ben precisa quella di uno sviluppo infrastrutturale capace di dare un ulteriore impulso alla promozione di commercio e territorio anche con questa iniziativa di Federalberghi e Confcommercio Marche Nord riportiamo al centro del dibattito dell'opinione pubblica e venera davvero bisogno le infrastrutture infrastrutture come precondizione di sviluppo gli investimenti sono tornati anche su questo territorio a partire dalla terza città delle Marche ossia Fano e quindi nel cuore della provincia di Peso Urbino con oltre 65 milioni di investimenti su Fano ma con oltre 120 milioni di investimenti sulle principali arterie che incidono su quello che sarà e potrà essere il turismo del futuro su questa città e lungo la costa adriatica del nord delle Marche uno dei punti cardine è senz'altro la Fano Grosseto per cui di recente sono stati fatti diversi passi avanti 120 milioni di euro di investimenti sulle strade della Valle del Metau ma poi l'investimento cardine che è quello della Fano Grosseto che risblocchiamo dopo decenni con l'avvio dei cantieri sulla prima canna della Galleria della Guinza quella esistente e con il deposito proprio nelle settimane scorse del progetto della seconda canna al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero ormai possiamo dire che in questa regione in questi due anni il Presidente Acquarogli e la sua giunta ha decretato un cambiamento nella visione delle politiche infrastrutturali quel cambio di passo che chiedeva la comunità regionale e la comunità pesarese è avvenuto e sta avvenendo a partire anche dalla città di Fano Al cuore del discorso vi è senz'altro la promozione turistica per cui le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale le infrastrutture sono un strumento fondamentale quale moltiplicatore di un grande interesse verso i principali attrattori turistici della nostra regione a partire ovviamente dal San Bartolo che è questa montagna che si tuffa sul mare Adriatico che rappresenta la porta d'ingresso del turismo nel nostro territorio nella provincia di Besserurbino ma anche in tutta la nostra regione da nord ma anche le nostre stupende spiagge che fanno da corollario a delle colline delle montagne che abbiamo all'interno della nostra provincia la provincia di Besserurbino che in solo 40 km è in grado di attrarre i diversi turismi da quelli che amano la montagna a coloro invece che preferiscono le nostre spiagge contornati da borghi magnifici mi viene in mente quello di Mondavio ma ne avremo tanti da citare in questo territorio che è davvero tutto da scoprire dobbiamo fare di tutto per portare turisti nelle nostre zone nella nostra città e nella nostra regione questo perché una destinazione turistica si sceglie in base al tempo di percorrenza si sceglie in base ai mezzi che ci sono per poter arrivare e quindi se la nostra deve essere una destinazione turistica è fondamentale avere un confronto con tutti gli operatori che operano nel settore per poter avere modo di pianificare tutto questo perché è la nostra risorsa è il turismo il 13% del PIL del nostro paese quindi è fondamentale avere questo confronto il sindaco il sindaco Matteo Ricci è stato rieletto presidente nazionale di ALI l'associazione che riunisce comuni, province regioni comunità montane impegnate per la crescita democratica del paese la rielezione all'unanimità è avvenuta durante il 19esimo congresso nazionale di ALI ricuciamo l'Italia che si è svolto a Pisa nella sede della locale Camera di Commercio e proprio il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Vimini si sono oggi complementati con l'amministrazione di Agrigento che è stata ufficialmente nominata Capitale della Cultura 2025 la città siciliana raccoglierà il testimone da Pesaro e Pesaro Capitale della Cultura nel 2024 destinerà uno spazio di rilievo anche alla sua secolare tradizione ceramista se ne è parlato oggi in un partecipato convegno di studi al centro artivisive pescheria con un confronto tra artisti amministratori e direttori di musei nel 2024 Pesaro Urbania e Fratterosa avvieranno infatti residenze artistiche rivolte ai ceramisti contemporanei e organizzeranno una rassegna nazionale in collaborazione con l'associazione italiana Città della Ceramica un faro e la frase segui la sua luce saranno logo e slogan che accompagneranno la veste grafica del 2023 del brand Gabice Maremonte presentato oggi al Mississippi di Gabice Mare un progetto grafico che avvia la promozione turistica della primavera estate 2023 del comune più settentrionale della costa marchigiana percorso che vedrà anche la collaborazione dei comuni di Gradara e Pesaro nell'ottica dei progetti promozionali paralleli di Riviera del San Bartolo e Pesaro 2024 Continua la generosità degli studenti del liceo Marconi di Pesaro che per il secondo anno consecutivo hanno raccolto importanti quantità di cibo da devolvere alle opere caritatevoli del Banco Alimentare Abbiamo fatto prima con i nostri volontari degli incontri nelle aule quindi abbiamo incontrato i ragazzi a scuola singolarmente ciascuno appunto ogni gruppo nella sua classe e lì abbiamo parlato ovviamente di economia circolare di carità abbiamo proprio cominciato ad introdurlo a quelli che sono i numeri comunque del Banco Alimentare dell'esperienza del Banco Alimentare e anche accendendo in loro una curiosità guardando tutto il piano normativo e tutto quello che succede nel nostro territorio e a quel punto li abbiamo invitati e quindi poi per un mese e mezzo li abbiamo ospitati periodicamente nel nostro magazzino a Pesaro perché loro potessero toccare con mano e vedere tutto quello che ci eravamo un po' raccontati e anche incontrando alcuni enti nostri convenzionati che poi sono quelli che materialmente prendono il cibo per donarlo alle persone in difficoltà Nella settimana siamo passati nelle classi a smistare gli scatoloni vuoti che abbiamo montato noi e dopodiché abbiamo aspettato la fine della settimana ovvero oggi venerdì che siamo andati a raccoglierli nelle varie classi e li abbiamo portati in un'aula dove abbiamo smistato gli scatoloni per tipo olio tonno pasta così e li abbiamo richiusi pesati e messi l'etichetta di cosa c'era all'interno delle scatole ci siamo singolarmente divisi in diverse categorie una la comunicazione e una la produzione produzione si intende più la parte manuale in cui si creano le scatole che poi andranno distribuite in ogni classe e la raccolta effettiva la comunicazione invece si occupa principalmente di diffondere i messaggi ovvero i giorni della raccolta quello che si può portare quello che non si può portare vorrei puntare l'attenzione su alcune parole fondamentali ovviamente condivisione apertura accoglienza solidarietà queste parole non sono soltanto parole vuote sono parole che necessariamente devono essere riempite di concretezza e i nostri alunni ovviamente mirabilmente guidati dai nostri bravi docenti sono riusciti a dare concretezza a queste parole pertanto la riscoperta della solidarietà della lotta allo spreco la riscoperta del dono abbiamo aiutato i ragazzi a vivere la realtà che è una realtà complessa dove sicuramente loro si sentono coinvolti con le loro famiglie con uno sguardo allargato alla cittadinanza e se mi permette è stato anche un gesto che è partito dal cuore nell'attenzionare la persona nella sua totalità per dare valore all'umano e dare valore soprattutto all'esperienza che accompagna anche la persona più indigente anche se è un'esperienza di volontariato che quindi non ci ripaga in soldi o altri bini materiali ma ci riempie il cuore diciamo e questo appunto perché aiutare comunque delle persone in difficoltà penso sia la cosa più bella che ci sia in questo mondo e chiudiamo questa nostra edizione occupandoci di sport dopo l'uscita a testa alta dalla finale di Coppa Italia l'Ital Service Pesaro si tuffa da domani nel rush finale della Serie A di Calcio 5 archiviata l'esperienza di Napoli con un fantastico approdo in finale di Coppa Italia poi ceduta all'ultimo atto al Real San Giuseppe l'Ital Service si rituffa in campionato rinfrancata da rinnovata consapevolezza dopo l'uscita a testa altissima dalle Final Four la squadra ha dimostrato che siamo capaci di lottare per dei grandi obiettivi ma molto amarecciato perché a fine non ci piace perdere adesso portiamo questo che abbiamo fatto di buono in campionato e proviamo a risolverci si torna al Palafiera sabato 1 aprile alle 20.30 contro i sardi del Monastir che vogliono scansare la retrocessione diretta provando a risucchiare i pesaresi l'Ital Service però vuole ristabilire le gerarchie sabato è come l'ultima spiaggia proprio perché loro sono nel nostro calcane a due punti sotto in casa contro di loro dobbiamo vincere per staccarsi della retrocessione diretta partita e rush finale di stagione in cui Canal chiama raccolta il tifo pesarese li invitiamo che ci continuino a sostenere abbiamo dimostrato che ci teniamo a questa maglia ci teniamo a rimanere in Serie A abbiamo fatto quello che potevamo in Coppa e riuscire continueremo a fare questo in campionato insieme a loro dal calcio 5 alla palla canestro l'Ital Service del Reto Basket dopo aver guadagnato il pass per la Serie C unica non stacca il piede dall'acceleratore nello scorso weekend la vittoria su Ascoli per 86-74 sabato alle 18 si gioca in casa dei San Marinesi del Titano a caccia di un altro successo che avvicini l'obiettivo del primo posto aritmetico siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma continuate a seguire Rossini TV perché subito dopo questa edizione quindi alle 20.40 vedrete la replica del telegiornale alle 21.20 c'è la puntata di Acome Angels esattamente la seconda puntata di questo programma che è dedicato proprio agli Angels Pesaro stiamo parlando di football americano e chiaramente avrete la possibilità di conoscere e di vedere le immagini che parlano proprio di questo sport quindi l'appuntamento è questa sera alle 21.20 e poi in questi orari che vedete replicate il sabato e la domenica e poi domani torna il nostro giornalista e amico Marco Cadeddu sarà con voi con il consueto appuntamento della rassegna stampa del sabato mattina in diretta alle 7.20 e vi ricordiamo e vi ricordiamo anche che oggi vabbè tanti di voi hanno visto la lettura il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio ma se ve lo siete persi oggi potete vederlo domani alle 10.30 e alle 16 domenica alle ore 8 e alle ore 11 e vogliamo ricordarvi questa sera di scaricare la nostra applicazione gratuita è molto semplice da usare attraverso questa applicazione potrete avere Rossini TV con voi sempre da tutte le parti del mondo anche quando andrete in vacanza e vedere in diretta la nostra rassegna stampa e anche il nostro telegiornale poi rivedere tutte le notizie nella sezione notizie potete anche contattarci tramite whatsapp oppure mandarci delle segnalazioni io vi auguro davvero buon proseguimento di serata il telegiornale ritorna lunedì sera alle 19.40